lezione 19 f ritmiche di pagina 144 continuiamo a vedere gli esercizi questi esercizi dedicati agli anticipi di prima di seconda di terza sul quarto movimento eccetera andiamo qui a vedere adesso tra il quarto parten ritmico qui di pagina 144 ho scelto per questa occasione e accordi che sono fa maggiore mi bemolle maggiore re minore do diesis maggiore allora la linea funziona in questo modo 1-2-3-4 1-2-3-4 eccoci qua quindi finito questi questi esempi di anticipi ti invito ancora come al solito a risuonarli a ricollegare la questione armonica con la questione ritmica e suonateli diverse volte questi ti serviranno tantissimo bene ci vediamo quindi al prossimo video dedicato alle scale e intervalli all'interno della scala al prossimo video ciao